La ceremonia di premiazione La polizia è la notità We'll enjoy from the ground stands Of inch 2, 3 e 4 Ricordiamo che Che la premiazione Potete assistere alla premiazione Dalle tribune del campo 2, 3 e 4 Ustra! 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 Vogliamo sentire il pubblico di Syracusa I the people of Syracuse Enjoy this match And clap your hands for both teams